Rosà modifica la viabilità in via sperimentale per i prossimi otto mesi, senso unico in via Bersaglieri in direzione est-ovest, mentre è stato istituito il doppio senso di circolazione in via Dei Fanti, nel tratto compreso tra via Cavallini e via Monsignor Filippi. Il provvedimento è stato necessario dopo le numerose segnalazioni dei cittadini che lamentavano la pericolosità negli incroci sull'SS 47 Valsugana. La Giunta ha così deciso di provare temporaneamente con queste modifiche che potrebbero diventare definitive.